Ben trovati in Infermieri Pordellone, questo è il primo vlog del 2014, il primo vlog in assoluto ed è il primo video del 2014. Il progetto per questo primo video era quello appunto di parlarvi di cosa pensiamo di fare in questo 2014 insieme. Tuttavia sapete che trattiamo anche i temi di attualità e come parlando di attualità locale è arrivata a me come a tutti voi, a tutti gli iscritti al collegio di passi di Pordenone, la convocazione per l'assemblea degli iscritti, dove al punto 3 leggiamo aumento della quota, se ne discuterà il venerdì 24 gennaio. Su questo aumento della quota, un mezzo alla tassa che dir si voglia, abbiamo avuto diversi commenti e alcuni post sui social network, tra questi anche alcuni messaggi privati. Ne cito uno di una persona molto preoccupata in quanto non lavora e stava meditando sulla opportunità di cancellarsi dal collegio visto anche l'aumento di quota. Ora, noi facciamo da sempre dell'impegno professionale la nostra forza come blog, quindi vogliamo stimolare un dibattito e una migliore conoscenza e una migliore consapevolezza rispetto all'aumento di quota e a che cosa serve la quota del collegio e il contatto. E quindi vi chiediamo di dirci la vostra opinione, di darci il vostro parere, al fine di parlarvi e di essere più consapevoli di tutto questo. Con l'impegno di tenerci maggiormente informati e di riaggiornarvi sul tema, vi saluto, vi auguro una buona assistenza e ci vediamo al prossimo video.